Le superfici ossee sono strettamente ravvicinate e possono addirittura saldarsi tra loro. Un esempio ne è una sutura, un tipo di sinartrosi presente tra le ossa del cranio. Questa organizzazione permette la propagazione delle forze da un osso all'altro con il minimo movimento articolare, diminuendo le possibilità di subire danni.